allora il video del 7 marzo e qui il titolo era nasda che sempre 500 iniziano a accelerare al ribasso questo era il segnale che stavano dando questi indici a inizio della settimana e vediamo come è finita la settimana la solita rappresentazione a linee che preferisco per il grafico settimanale almeno in questo periodo visto la volatilità elevata e la volatility stop line che per gli appassionati per la cronaca ho ridotto il moltiplicatore a 1 anziché a 2 e questo proprio a causa della volatilità più elevata e per il fatto che siamo sulla scala weekly allora iniziano a accelerare ribasso cosa è successo è sempre 500 ha rotto 4.300 il famoso 4.300 che era un supporto grafico molto importante e quindi al dato il via una discesa che per il momento vede come target area 4000 che è dato dalla proiezione della spalla destra di questo testa e spalla ribassista che si è formato a partire dal mese di agosto 2021 quindi abbastanza importante primo target proiezione 1.618 della spalla destra che è anche un supporto grafico importante 4000 più in basso ne abbiamo altri comunque uno step alla volta per il momento ci stiamo dirigendo lì a meno che sempre il piano b l'area 4.300 per qualche motivo non venisse velocemente recuperata quindi questo l'S&P 500 ha dato un segnale importante questa settimana l'altro indice molto seguito è il nasdaq fa mostro l'indice perché molti amici seguono direttamente l'indice invece dei dei di etf e 14 7 era il supporto grafico importante del nasdaq nasdaq lo ha lasciato da quel di infatti qui siamo al già al quarto pallino nero di volatiliti stop line gli indicatori non ci danno nessun segnale di stress o di inversione per il momento perché la dx è in crescita ed è soltanto a quota 27 il nasdaq ha già raggiunto il primo target in area 13 5 questa settimana come vedete dalla distanza dai pallini rispetto alle settimane precedenti c'è stata un'accelerazione quindi ha confermato la chiusura di venerdì quello che sì che si intravedeva già inizio settimana quindi target 13 5 raggiunto il successivo è molto più in basso quindi attenzione perché qui c'è spazio resterei sorpreso se questo livello venisse bucato al primo colpo quindi non facesse da magnete potremmo vedere delle oscillazioni anche ampie qui è perché con la volatilità che c'è è chiaro che non c'è da meravigliarsi di vedere oscillazioni di 300 punti da una parte dall'altra però vedrei come baricentro 13 5 per il momento settimana prossima molto importante perché c'è la riunione della fed che dovrebbe decidere l'aumento dei tassi questo dà abbastanza fastidio ai titoli tecnologici però il nasdaq il quarto di punto di rialzo dovrebbe averlo scontato quello che sembra verrà deciso nella riunione della fed quindi a meno di sorprese quindi di annunci non attesi io mi attenderei un consolidamento su questi livelli visto che qui il target è stato raggiunto per quello che riguarda l'america e darei ancora un'occhiata al russell russell invece ecco il russell anche lui ha raggiunto il primo target tecnico in area 195 dopo il break di 210 è stato il primo guardate quanti pallini neri abbiamo sempre detto che il russell ha fatto un po da apripista e il russell già diverse settimane che sta stazionando sull'area magnete di 195 quindi attenzione a questo livello perché più in basso l'obiettivo è 180 l'impostazione comunque di tutti gli indici e ribassista e non ci sono sulla scala weekly per il momento segnali di inversione qui dal punto di vista tecnico l'inversione avverrebbe con il recupero di aria 210 questo è il le tf ivm sul russell che l'indice delle piccole medie imprese americano veniamo all'europa l'europa abbiamo il dax che chiaramente a causa delle tensioni geopolitiche nel continente gli obiettivi li ha raggiunti e superati di botto già dalla settimana precedente perché con soli due pallini neri siamo già arrivati al secondo target quello in area 12 8 volatilità altissima qui 12 8 è stato abbondantemente anche superato in intraday però poi da qui ovviamente c'è stato ovviamente tra virgolette c'è stato il rimbalzo ovviamente perché comunque quando le tensioni sono elevate basta poco come detto nei video settimanali per un rimbalzo importante qui metterei per un attimo il grafico a candele per far vedere come appunto questo è stato il famoso rimbalzo guardate il minimo abbiamo raggiunto addirittura 12 e 4 e il rimbalzo è andato a toccare il ritracciamento del 38 per cento di tutto il movimento ribassista e ritorno un attimo sul grafico a linea e poi da lì è tornato indietro e la settimana si è chiusa a 13 6 quindi mi attenderei vista l'elevata volatilità qui che il magnete sia 12 8 quindi propendo più per un prezzi che vengano giù a oscillare più intorno a quest'area perché il tentativo di riagganciarsi al magnete precedente che era 14 e 2 è fallito nella giornata di venerdì giovedì c'è stato il rimbalzo ma venerdì i prezzi sono tornati indietro quindi ritengo più probabile da un punto di vista tecnico appunto che si vada a rivedere la parte bassa e quindi l'area 13 mila 12 e 8 parliamo sempre di probabilità qui palla di cristallo non ce l'ha nessuno e l'analisi tecnica non fa previsioni diamo solo scenari tecnici lo scenario tecnico dice che qui ber sono ampiamente in controllo il momentum è elevato e la volatilità è elevata abbiamo visto tante volte il busto x lo rivediamo busto x altissimo a 39 quindi questi sono livelli che in passato hanno coinciso con fasi ribassiste prolungate quindi anche il fear and greed index che l'indice della paura calcolato dalla cnn siamo in area di estrema paura è un'area dalla quale potrebbero partire come abbiamo visto dei rimbalzi violenti comunque non sappiamo da un punto di vista di trend quanto tempo gli indici 12 possono stazionare a questo livello quindi questi sono degli indicatori non sono indicatori di timing cioè il timing cosa significa vedo l'indice a 10 compro non funziona così come con gli indicatori di iper comprato iper venduto di uno dice quindi a cosa servono servono a capire che siamo comunque in una situazione di eccesso di paura di elevata volatilità e quindi da un punto di vista operativo poi si devono prendere certi accorgimenti cioè adesso per esempio le opzioni sono estremamente care quindi comprare opzioni in questo momento tu cur e potrebbe rivelarsi per esempio poco poco utile ecco perché la copertura che offrono in questo momento è bassa perché vado a pagare il premio molto alto comunque qua entriamo in discorsi tecnici che esulano dal da questa analisi settimanale che serve semplicemente a dire più o meno in che situazione siamo la situazione di eccesso e sul petrolio che aveva rotto al rialzo con gli ultimi eventi geopolitici il canale rialzista nel quale stava oscillando dal mese di marzo 2021 quindi questa è una situazione non di eccesso di più però anche qui quanto ci rimaniamo non lo sappiamo torniamo sul grafico a candele per vedere se ci dà un segnale un piccolo segnale c'è un primo segnale dal punto di vista weekly questa è una shooting star quindi ci dice che il livello di 128 da superare non sarà semplice perché comunque c'è stato un reversal molto potente da quel livello ecco torniamo il grafico a linee per guardare i preziosi loro come avevamo detto nell'analisi settimanale è andato a ingaggiare area 2000 ha chiuso a 1988 in intraday è arrivato fatto uno shooting fino a 2060 e stessa cosa per l'argento che sa ha consolidato questa settimana sopra le resistenze in area 25 4 che erano molto importanti attenzione a questi livelli in caso dovesse esserci un ritorno verso il basso perché con un ritorno verso il basso significa che questo trading range questo compreso fra 22 e area appunto 25 è invece ancora attivo a proposito di trend generali abbiamo detto l'anno scorso tante volte che il gruppo dei fang era quello che aveva sostenuto gli indici avevano comunque portato quella che era la performance differenziale di performance soprattutto con gli indici europei ecco torno un attimo sul dax per far notare una cosa come siamo sui livelli guardate siamo sui tornati sui livelli pre pandemia quindi sono i massimi del 2020 massimi del 2020 questa chiusura settimanale era a 13 mila e 700 no abbiamo chiuso a 13 mila e 6 questa settimana quindi ci siamo portati appunto sui livelli pre pandemia guardate invece il nasdaq il nasdaq è a 13 mila i livelli pre pandemia erano a 9.600 ok siamo ancora molto molto più in alto stessa cosa per le semplici 500 come mai e se più 500 4002 giusto per completare il panorama e i massimi pre pandemia erano 3.400 quindi sono 800 punti che è il 20 per cento ecco quel come mai con il come mai abbiamo detto tante volte è stato dovuto molto alla performance dei fang che sono stati considerati sempre dei sempre comunque nell'ultimo anno e mezzo le zatte di salvataggio i titoli imbattibili quelli che sarebbero saliti sempre e comunque e che quindi hanno raggiunto multipli molto elevati a cominciare da apple questo è il massimo di apple pre pandemia a 80 e siamo ancora 154 cioè apple e ancora va ancora il doppio dei livelli pre pandemia ok questo è quando è stato annunciato il lo split delle azioni il grande rally comunque sono azioni che sono state sempre complate e oggi sono ancora molto care cosa stanno facendo in settimana avevamo fatto un video per dire se i fang per chiedevamo se i fang stavano ancora sostenendo il mercato e la risposta era probabilmente no oggi con la chiusura settimanale per la prima volta apple rompe la volatilità stop line su scala weekly non c'è ancora i pallini neri però ecco apple ha mollato è l'ultimo questo è il titolo più forte di tutto il gruppo questa settimana ha rotto il supporto grafico a 160 dove passavano questi due pallini vedete queste tre chiusure e quindi disegnavano questo triangolo flat in basso è stato rotto al ribasso e per la prima volta appunto dai tempi della pandemia la il dmi negativo è passato in controllo quindi sta segnando nuovi massimi e si sta aprendo quindi una configurazione interessante tutti gli altri fang sono in configurazione negativa a parte facebook che si è dimezzata dai massimi di settembre quindi sicuramente il titolo che meno meno rappresentativo comunque tutti gli altri anche amazon per esempio l'effetto split annuncio split no che giorni fa un amico chiedeva come mai con apple aveva il titolo era partito al galoppo e ora no è perché è cambiata la situazione quindi quando cambia il contesto quando si è in un contesto altamente speculativo qualsiasi notizia vale per correre al rialzo correre a comprare quindi lo split azionario che non non cambia di un centesimo la redditività agli utili dell'azienda ma facilita soltanto la speculazione fino a un anno fa era una notizia che faceva decollare le quotazioni adesso non più quindi amazon questa settimana è riuscita a evitare la rottura dei supporti a 2860 2860 proprio perché annunciato lo split era l'ultimo titolo dei fang che attendevamo a splittare perché vedete google aveva fatto qualche giorno fa google vale ancora 2006 tutti gli altri hanno già fatto lo split per ridurre il valore dell'azione quindi facilitare l'acquisto delle azioni da parte dei piccoli investitori perché chiaramente quando un'azione da sola costa 2900 dollari è chiaro che l'operatività è limitata no non si riesce ad operare se non con grosse cifre e quindi amazon anche amazon è la quinta settimana di pallini neri ha rotto un'ampia figura al ribasso questo ma è già nel mese di gennaio e guardiamo google proprio per ecco lo split qui c'è stato l'annuncio dello split sembrava ecco ora ora parte ora decolla invece siamo tornati verso il basso attenzione questa settimana google perché su un supporto guardate 2006 molto importante ci sono tre chiusure settimanali e quindi se dovesse mollare anche qui abbiamo spazio al ribasso area 2003 il prossimo target e persino microsoft che è sempre stata considerata un po come la microsoft ricordo che degli anni e forse l'unico titolo della pattuglia dei top 10 degli anni 2000 che ancora nei top 10 anzi e nei top 5 e comunque nonostante questo anche microsoft è un chiaro trend discendente con i bear in controllo qui non abbiamo nessun segnale possiamo vedere anche il grafico a candele non abbiamo nessun segnale questa è la chiusura più bassa degli ultimi mesi torno al grafico a linee quindi fang ecco questo è un segno perché guardiamo i fang proprio perché sono i titoli guida quelli che una volta sulla borsa italiana si chiamavano titoli guida e che appunto quelle condizionano un po il l'andamento di fondo del mercato quindi una settimana che non ha visto cambiare il quadro tecnico sugli indici azionari e quindi la situazione di tensione sull'equity rimane inalterata va bene siamo già a 16 minuti di video io direi come aggiornamento va bene così continuate a seguire settimana prossima fondamentale abbiamo la riunione della fed quindi sicuramente vedremo ancora tanta volatilità lasciate i vostri like e i vostri commenti like aiutano il canale a essere visualizzato quindi aiutano anche altri amici a poter vedere questi video e attraverso i vostri commenti poi magari durante la settimana analizzeremo situazioni di particolare interesse che vorrete magari volete portare alla all'attenzione anche di tutti quelli che ascoltano grazie buon fine settimana appuntamento a lunedì grazie a tutti